Grazie a tutti. Quest'anno è il primo anno del cambio di nome, perché prima si ricordava che era della domotica e visto i temi trattati, i temi di interesse generali, ci è piaciuto allargare lo sguardo e quindi abbiamo inserito questo termine di sostenibilità. E' certo il primo anno che l'Agenzia per l'energia è al centro di una settimana così importante, perché il lavoro è enorme, ma diciamo che se andiamo a confrontare anche solo le ultime sei edizioni, si può vedere come si tende sempre ad inserire nuovi argomenti, nuove opportunità di approfondire. Grazie a tutti. Buongiorno. Benvenuti alla quindicesima edizione della settimana della Biartituttura e della Sostenibilità quest'anno. Buongiorno. 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 Grazie a tutti.